Ma secondo voi? Si vede? Si sente bene? Ma io cosa sto facendo della mia vita? Ho vent'anni Perca bo- Stoppo? Ma così un mec in bilico? Boiade, ok, stoppo e vediamo Tra la sabbia, vabbè ha rotto e vabbè, tanto ormai Allora, facciamo finta di essere tumblr Buono questo coffee freddo Dove vai? Microfono, no, ti prego Ciao, ehi, mi sa che ho clippato, ciao, ciao Anzi no, anzi no, questo video lo faccio così Anzi, fuori dalla finestra, passa il fin dei mondi Perché oggi hanno deciso tutti quanti di passare sotto Casa mia Quindi se sentite delle macchinine Porca puttana, ho cliccato una pubblicità Siamo, amici, siamo, Luca e benvenuti Vabbè, per far sta cagata ci ho messo 5 minuti Ok, facciamo che la facciamo la prossima volta, sì, grazie No, allora, ciao a tutti quanti Perché l'ultima volta che mi son presentato Eravate 1700 E ora siete 5500 Quindi Già, ho dato un'occhiata agli ultimi commenti, no? Del video In realtà non sapevo che video fare oggi E gli ultimi di voi mi conoscono solo grazie a Fortnite Quindi io vi voglio far scoprire un mondo estraneo In questo mondo dove Qualsiasi persona può essere se stessa Ovvero Forn up Io sto perdendo iscritti, ok? Un possibile spam Ma vaffanculo Vaffanculo Iniziano già i c***i su Brawl Star Porca boia A parte che prima cosa devo ringraziare a tutti quei bimbi che nel video mi ha fatto conoscere di Fortnite Mi hanno detto che mi avrebbero bannato Perché hanno i cugini che lavorano nella epiche Quindi io vi ringrazio Grazie perché avete tolto un vero hacker dalla circolazione Vabbè A parte ste cagate qui Mi chiamo sempre Luca Ho 20 anni, lo giuro Allora, raga, lo so Lo so che sembra che non ho 20 anni Ok? Lo so, lo so anch'io Perché io quando vado in giro dico che ne ho 13 in realtà Perché almeno così posso uscire con le ragazzine più piccole, no? Perché fino a 4 anni vanno bene Quindi se dico di avere 16 anni posso uscire con le 12 anni Va bene così Nella vita faccio un videomaker Cosa vuol dire che faccio un videomaker? Faccio letteralmente i video Avete veduto i video della pubblicità? Faccio quelle robe lì Ovviamente non per la pubblicità Però per le robe un pochettino più piccole Ultimamente sto portando avanti sempre Twitch e YouTube E voi siete un macello di voi proprio disumanamente enorme Volevo fare questo video al contrario Ma ho provato a leggere, come avevo detto, la prima frase ed è molto strano Non dovrei puzzare ma sento... Niente in realtà volevo leggere tutti i vostri commenti Ma tipo siete stati una roba come 400, quasi 500 E' difficile rispondere a tutti quei commenti Più che altro, voi non sapete, questo video è una sfida contro il tempo Perché io tra meno di... Merda sono ancora alle 9 e mezza di mattina Ho bisogno di caffè Perché io tra poche ore dovrò caricare questo video Perché sì, oggi è venerdì e sì E' appena uscito il video Dai mettilo sto like Cosa fare con 5.000 iscritti? Non esce niente Come investire 5.000 euro Non si fa niente con 5.000 iscritti Niente raga, niente Guarda a te, guarda a te che sto video deve essere uno schifo come tutti gli altri eh Ma io non so neanche se sto registrando In realtà volevo fare anche questo video per dire appunto a tutte le persone nuove Che non c'è bisogno che mi dite Anzi Non c'è bisogno che mi dicete Perché non c'è bisogno che mi chiedete di giocare con me In fin dei conti C'è scritto nella descrizione che è un posto bellissimo ragazzi Si narra che una volta una persona di punta in bianco non lesse la descrizione E il giorno dopo gli esplose tutte quanta la famiglia Autocombustione Esatto La descrizione comunque ve lo giuro è un posto fantastico Fantastico Perché avete presente quella lampada blu? No, vabbè a parte scherzi Io streamo tutti i freaking giorni su Twitch Tipo Twitch TV slash Muso E quindi è fico Perché voi venite e parliamo Mentre giochiamo Muso fa cose E parliamo Questo video è un cancro Questo video è un cancro Secondo me viene una merda sto video Ma tipo no Ora che sono diventato un mini youtuber Posso chiedere i like Li posso chiedere Cioè se io tipo dovessi chiedere Oh 300 Mi piace 400 Boh Non so se ci arriviamo Oh fate voi Lasciate il mi piace Più mi piace ci sono E più Luca è contento Muso volevo dire scusate Boh Scrivete tipo Tanto scrivete nei commenti Ti chiede qualche idea che vi piacerebbe vedere Io me ne vado via Che boia Non fa farmi culo Anche io faccio i video culo E non hai capito niente Adia Ma dai Non ci credo Jingle bell Jingle bell Jingle bell Grazie a tutti Grazie.